ciao a tutti amici oggi voglio parlarvi soltanto di una piccola cosa anche se in teoria dovrei parlare di quattro o cinque cose contemporaneamente però lo spazio di questo questa chiacchierata è molto ristretta vi avevo promesso che avrei messo in onda un video con la registrazione del volo ed fpv però purtroppo questa settimana ho avuto tanti di quei casini all'esterno del lavoro cioè impegni vari niente di particolare tutto bene tutto a posto le salute di di me e delle persone vicine stanno tutti bene stiamo tutti bene grazie per essere preoccupati di questo anche se avete fatto vi ringrazio lo stesso il problema è che con tutti questi impegni mi è diventato impossibile fare un video perché per fare il video devo prima di tutto capire come funzionano le cose è un prodotto nuovo l'avete visto nel mini unboxing che ho fatto poi magari ve lo riparlo un po meglio quando lo apro per capire com'è però insomma devo sadare dei connettori devo fare tante cose che non ho avuto proprio tempo di fare comunque spero di farlo presto domenica lo stesso ci sarà un bellissimo video e spero che vi piaccia perché ci ho messo tanta cura nel farlo e ho usato tutte le tecniche a me disponibili anche nella post produzione ragazzi continuate a seguirmi ciao a tutti